Le manca geste, Presidente? No, 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 sono contenta così, no, veramente. È giusto cambiare, è giusto che ci sia un tempo per lo Stato e anche però un tempo in cui uno riprende in mano la propria vita. Un tempo in cui uno riprende in mano la propria vita. Un tempo in cui uno riprende in mano la propria vita.